Il PNRR offre una grande opportunità per rammendare il nostro territorio dando alle aree svantaggiate interne, alle zone montane e alle piccole isole al mezzogiorno un abito su misura con risposte mirate. Quanto sostiene la ministra per gli affari regionali Maria Stella Gelmini a margine del suo intervento al meeting di Rimini, in particolare sulle montagne è indispensabile una legge quadro per combattere lo spopolamento, ogni territorio ha il diritto di avere le risposte adeguate. In tema di riforme la Gelmini sostiene che andrà riaperto il dossier sull'autonomia differenziata delle regioni e sul federalismo fiscale.